Un lavoro in team, quello del Movimento 5 Stelle, che denuncia quello che viene definito lo scandalo di Piazza della Libertà. A Bruxelles nessuno sa di quello che è accaduto, non si sa che la piazza è sottoposta a sequestro, delle tre inchieste che la interessano e non si sa che per fare la pavimentazione sono stati stornati 20 milioni di euro che erano destinati al centro storico alto. Beh, intanto rimango sbalordita dal fatto che ci sono delle informazioni che obbligatoriamente dovrebbero arrivare a Bruxelles e non arrivano. E poi, questo prima di tutto, secondo abbiamo un problema di fondi che sono stati dirottati per altre cose, perché poi approfondendo la vicenda abbiamo trovato altri documenti, ovvero un documento che si chiama Allegato A, che non si trova online sul sito del Comune e vorremmo sapere anche perché. Da questo aggregato abbiamo visto che 20 milioni di euro che servivano per il finanziamento della ristrutturazione del centro storico alto di Salerno in realtà sono stati dirottati per la pavimentazione di Piazza della Libertà. Alzano i toni i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, il senatore Cioffi, il deputato Pisano, presenti alla conferenza stampa. Si parla di utilizzo di fondi europei in questa campagna elettorale, dicono in sintesi, ma sia da parte di De Luca che di Caldoro, più che di utilizzo si può parlare di Sperpero. Per fare che cosa? Per fare un parcheggio poi in tutto questo, un parcheggio che già esisteva, perché avevamo 500 posti auto prima della costruzione di Piazza della Libertà, e adesso invece abbiamo solo un cantiere bloccato. Abbiamo speso i soldi dei cittadini come un buon padre di famiglia, e in realtà poi scoprono dai fatti che i soldi che dovrebbero servire per valorizzare i beni culturali e quindi anche creare dei posti di lavoro e far lavorare tanti, come me che sono variati in materie umanistiche e archeologiche, in realtà poi servono per fare un'opera megaromane, un parcheggio megaromane, e la pavimentazione costosissima di una piazza che non porta posti di lavoro e non migliora assolutamente la qualità della vita dei cittadini.